Presidente Giulianti, qual è la situazione economico-finanziaria delle autolinee Cerella? Intanto apprendo, è la cosa mi onora, che l'ex sindaco La Penna ha fatto questo Consiglio Comunale alla luce di alcune dichiarazioni che alcuni mesi fa ho fatto io, che erano dichiarazioni banalmente sciaguratamente scontate, ci si trovava di fronte ad un sindaco che di fronte ad una sentenza chiedeva, ad un sindaco di una società SRL intendo, chiedeva che venisse appostato a un bilancio un fondo rischi che era sostanzialmente e di fatto la dichiarazione di default dell'azienda. Io mi sono limitato a dire che se come per legge si sarebbe dovuto fare, se fossero seguite le indicazioni dei sindaci, ci si trovava oggettivamente di fronte ad una situazione che importava delle risposte importanti, che dovevano vedere investite le istituzioni e se queste non ci fossero state ci saremmo trovati di fronte ad un default dell'azienda e quindi ad una serie di provvedimenti da attuare per salvare maestranze, servizi e quant'altro. È passato del tempo, in parte sono cambiate le condizioni perché la prima sendenza in appello in parte è cambiata, ma il problema è rimasto in donso. Io qui assisto ad un dibattito in cui la politica si consuma in dichiarazioni di gran parte dei consiglieri che oggettivamente dichiarano esplicitamente di non conoscere quelle che sono le problematiche e onestamente fare un consiglio comunale con un punto all'ordine del giorno che prevede interventi e situazione Cerella senza che nessuno la conosca mi sembra perlomeno irrituale e credo sia in qualche misura giusto e opportuno ricentrare la situazione. I sindacati chiedono di inglobare Cerella all'interno di Tua, è possibile questo? È una 80% di Cerella, dopodiché è però una SRL indipendente, nell'SRL i soci che posseggono le azioni non intervengono nella gestione, altrimenti si troverebbe di fronte ad un amministratore di fatto. Noi prenderemo atto di quelle che saranno le condizioni che verranno a crearsi alla luce del prossimo bilancio che dovrà essere approvato e in base a quelle che saranno le risultanze ci saranno delle azioni da compiere che evidentemente prevede anche e soprattutto eventualmente l'intervento della Regione e non del socio anche se di maggioranza. Si sente di dare rassicurazioni sul mantenimento dei livelli occupazionali? Guarda in linea di massima ritengo che qui stiamo parlando di trasporto pubblico locale e quindi qualunque sia alla fine l'accadimento io ritengo che sia presto che impossibile che vengono lasciate a piedi sia i lavoratori sia i servizi che in questo territorio insistano e che sono obbligatori per legge.